Un pizzico sfortunati, però penso che l'atteggiamento che abbiamo messo in campo è quello giusto. Non abbiamo concesso bisognamente al Palermo, abbiamo creato 4-5 occasioni nitide e peccato, però penso che con questo atteggiamento possiamo raggiungere l'obiettivo al più presto, al di là di come sarà nella prossima partita. Sì, si è aperta anche per, oltre magari al suo ingresso, anche per il fatto che i ritmi erano calati in confronto all'inizio. Non penso ci sia rammarico perché abbiamo dato tutto, questa deve essere la nostra prerogativa, abbiamo creato le situazioni e non siamo riusciti a fare gol, però questo è il trend giusto. È difficile, ma adesso non sono in grado di rispondere, nel senso che dovrei riguardarmi tutte le stagioni che ho avuto. Sicuramente ci sono state stagioni un po' più difficili dal punto di vista dei risultati, però ho sempre cercato di dare tutto, poi i risultati sono un po' la conseguenza anche dell'andamento della squadra, quindi se il gruppo è un gruppo compatto e nel quale tutti cercano di dare il massimo, anche i singoli possano rendere al meglio. Quanto conta la presenza di Ventura che ti conosceva bene, che ti aveva già allenato a Bari e che ti ha voluto qua a Torino in queste tue ottime performance qui in Maglia Granata? Beh, è lui che mi ha voluto qui, quindi non posso che ripagarlo e della fiducia che mi ha dato lui, il presidente, il direttore, cercare di mettere in campo tutto quello che ho, come lo fanno anche tutti gli altri miei compagni. Vabbè, queste sono decisioni arbitrali, non è che voglio entrare in merito perché anche io magari ho un po' il regolamento un po' alloscuro, non è che lo conosco benissimo, però non so cosa dire, abbiamo preso tanti rigori a sfavore, ogni volta che magari entriamo in aria avversaria veniamo muniti per simulazione, è un dato di fatto, però noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo cercare di immaginare come abbiamo sempre fatto. Sicuramente prima o poi ci capiterà un rigore anche a noi.